Raffaele Fitto invece sarà il vicepresidente esecutivo per la coesione e le riforme, sarà responsabile per il portafoglio che corrisponde alle politiche di coesione, le città e lo sviluppo regionale, ha un'esperienza di lungo corso che ci potrà aiutare per la coesione, le politiche di crescita e gli investimenti. Questa è la squadra dei vicepresidenti esecutivi che lavoreranno di pari passo e di concerto con tutti gli altri commissari, quindi con l'intero collegio di commissari.